Dopo le grandi metropoli di Palermo e Catania, anche Vittoria entra e fa parte di un progetto con tre pizzo. Al centro di Vittoria si è svolta una passeggiata della legalità. Una passeggiata che è partita da Piazza del Popolo e si è snodata per tutta Via Cavour. Un modo come un altro per far capire ai commercianti, agli imprenditori e professionisti che è necessario dimostrare la propria estranetà alle organizzazioni mafiose e criminali. Un impegno da parte di tutti i cittadini per dire no alla mafia e combattere tutti insieme la criminalità organizzata. Un'iniziativa inserita all'interno di un progetto a livello nazionale e portata avanti dall'Associazione Anti-Racket e Anti-Usura Locale che prevede la sottoscrizione di un documento in cui si dichiara la volontà di non voler più pagare il pizzo. Inoltre l'iniziativa prevede la stampa di un libretto in cui sono elencati tutti i nomi di chi da ora in poi dice no a questa tasse illegale che incrementa solo la criminalità. In questo modo anche i consumatori scelgono liberamente a chi dare i propri soldi non solo di beni ma anche di servizi. Una scelta fondamentale perché ognuno di noi può fare qualcosa per combattere la mafia.